Buonasera, grazie all'intervenuto in presenza, grazie a chi ci segue. Questo è un giorno importante. Io credo sia la prima volta in questo Paese in Italia che tutto il mondo ecologista, praticamente tutte le grandi associazioni, fanno una conferenza stampa a Montelis Citorio, alla Camera dei Deputati, per dire come la pensano, per influire sulla legge di bilancio dello Stato italiano proprio nei giorni in cui si giocano le partite più importanti. È veramente un passaggio, io direi, un piccolo passaggio storico e noi speriamo che sia il primo di una lunga serie, sia l'inizio di un salto di qualità per l'ecologismo italiano. Dobbiamo fare sistema di più, dobbiamo contare nei momenti in cui si decidono le cose importanti. I prossimi dieci anni saranno decisivi, saranno decisivi per il pianeta, e saranno decisivi per questo Paese, per la sua capacità di cogliere l'innovazione e non rimanere indietro. Questa iniziativa è nata su un lancio, su un'idea di Fabio Roggiolani, e non è strano perché Fabio Roggiolani è di decine attante, il presidente di Ecofuturo, subito ripreso da Edoardo Zanchini, il vicepresidente di Lega Ambiente, però il tutto è avvenuto in un webinar dell'associazione Ecolobby, la piccola associazione nuova di cui io sono presidente, che ha questo nome un pochino provocatorio. Noi ci proponiamo di fare lobby, cioè di mettere insieme appunto il mondo ecologista in modo che conti di più. E diciamo, questo evento dimostra che un pochino ci siamo anche riusciti con l'aiuto ovviamente dei nostri amici, quindi ne andiamo anche un po' orgogliosi. Chi ha visto il lancio di questa conferenza stampa ha visto che c'è una breve piattaforma comune e poi tutte le posizioni dettagliate delle varie associazioni. Io prendo due minuti per dire quelle di Ecolobby e poi lascio ai numerosi altri interventi. Noi diciamo come Ecolobby, il capacity market è così, non va bene. Bisogna farlo in una maniera che incentivi di più le rinnovabili. Non possiamo puntare tutto sul gas, sulle turbogasse, anche come elemento di capacità, quindi di sicurezza della rete, perché ci sono le tecnologie e le convenienze economiche per fare con il rinnovabile. Diciamo che in questa finanziaria chiediamo un consistente inizio della diminuzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Chiediamo che ci sia davvero lo sblocco delle rinnovabili, perché le semplificazioni che ci sono state non sono sufficienti. C'è ancora un eccessivo peso del Ministero dei Beni Culturali, delle sovrintendenze, delle regioni. Chiediamo che non venga surrettiziamente reinserito finanziamenti al carbon capture che è stato sconfessato a tutti i livelli, scientifici, politici, quindi non si può reinserire surrettiziamente, anche se ci sono grandi gruppi che lo vogliono fare. Chiediamo che nell'eco bonus innanzitutto non si discriminano le vegliette monofamiliari, non si decapiti questa norma comunque importante, magari si rendano più stringenti certi parametri, sicuramente non è accettabile che nel super eco bonus il fotovoltaico si fermi al 2022 come incentivazione e le caldaie a gas vadano fino al 2024. Noi diciamo fermiamo le caldaie a gas subito, non possono stare sul super eco bonus, il fotovoltaico invece andiamo avanti. Vorremmo che si sbloccasse la legge sull'agricoltura biologica che è in dirittura d'arrivo e si è fermata. Vorremmo che ci fossero i soldi adeguati per quel fondo che doveva essere 100 miliardi e che forse se ci fosse stato davvero a Glasgow qualcosa sarebbe cambiato. L'Italia dovrebbe contribuire per 3 miliardi, per ora ne ha messi 800, vorremmo adeguarlo. Vorremmo infine che quando si parla, e questo è un punto anche culturale un po' più importante su questo, chiudo, quando si parla di dare più reddito ai cittadini, che è una cosa importante, ad esempio con lo sgravio fiscale, si parla di usare 6 miliardi per abbattere il cuneo fiscale, per diminuire l'IRPF ai cittadini, magari si dovrebbe stare un po' più attenti a quelli con reddito più basso, un po' meno benestanti, ma insomma aumentare la capacità di reddito ai cittadini lo si può fare anche, ad esempio, diminuendo il prezzo di alcuni servizi, ad esempio il trasporto pubblico. Secondo noi un nostro grande obiettivo, un nostro grande sogno sarebbe porre sulla fiscalità generale il trasporto pubblico e renderlo gratuito. Ora forse questo non si può fare subito, ma nell'immediato, ad esempio, potremmo imitare l'Austria, che ha fatto il ticket unico per treni, trasporto pubblico locale, trasporto pubblico regionale, con una tariffa molto agevolata, un abbonamento unico annuale, con una tariffa molto agevolata per i poveri. Insomma, quando si parla di abbassare le tasse, di aumentare il potere d'acquisto dei cittadini, si può fare anche inducendo comportamenti ecologici. Mi fermo qui, tante altre cose vorremmo dire, ma la platea è fortunatamente e felicemente ampia. Concludo dicendo che sono contento e anche un po' emozionato, e spero che questa sia davvero la prima tappa di una crescita politica dell'ecologismo italiano. Grazie all'onorevole Nardi che ci ospita, grazie a tutti i parlamentari che interverranno, di varie forze politiche, di 5 Stelle, Facciamo Eco, Europa Verde. Insomma, abbiamo messo insieme tante forze, speriamo che serva. Grazie. Grazie mille Mauro Romanelli, Presidente di Acolobbi. Prima di lasciare la parola a quelli che sono in realtà dei videomessaggi per le persone che non sono potute partecipare in presenza, vorrei chiamare per un saluto Francesco Ferrante, Vicepresidente di Chioto Club. Grazie. Grazie. Ma io intanto mi iscrivo a Acolobbi, nel senso che ogni singola proposta che Mauro ha illustrato la condivido in pieno, la condividiamo come Chioto Club e credo che la condividano tutti quelli che hanno indetto e partecipato a questa nostra riunione. Io rapidamente vorrei fare un discorso generale che secondo me però può informare di sé anche lo sforzo che in Parlamento poi bisognerà fare per in qualche maniera indirizzare per quanto è possibile. Conosciamo benissimo quali sono le condizioni in cui dovete lavorare, quindi non ci inventiamo nulla di strano. Sappiamo quali sono condizioni abbastanza delimitate però forse alcune cose le si possono fare alcune sono quelle che ha indicato Mauro ma soprattutto la questione è cercare di uscire da questa apparente dicotomia che mi dispiace ma anche il Ministro Cingolani ieri ha in qualche maniera contribuito a raccontare che saremmo in un bilico tra la catastrofe sociale e la catastrofe ambientale. Noi non riteniamo, noi non crediamo che interventi che vadano nella direzione di sostenere la transizione ecologica quali quelli che ha raccontato Mauro e altri che se ne possono avere siano pericolosi dal punto di vista sociale. è esattamente il contrario. Noi se non facciamo nulla se non spingiamo sulla transizione ecologica quello sì, l'inevitabile cambiamento determinerà problemi sociali anche rilevanti. Se invece accompagniamo in qualche maniera la transizione ecologica penso al ragionamento sull'automotive che tanto sta appassionando in questi giorni è vero che l'auto elettrica ha bisogno di meno componenti del motore endotermico ma se noi accompagniamo la riconversione di quel settore così importante per l'industria e per la manufattura italiana scopriremo che la filiera dell'auto elettrica può contribuire in maniera rilevante e importante all'occupazione di questo Paese. È il ragionamento che proviamo a fare da un po' di tempo sul super bonus quando diciamo e cerchiamo di allertare anche il governo il ministero delle economie e finanze che fa il ragionamento sui costi di guardare anche però alle ricavi non solo in termini di efficienza energetica che si stanno ottenendo non solo in termini di rilancio di un settore dell'edilizia senza consumo di suolo come si sta facendo ma anche quei ricavi diciamo se volete anche più diciamo di occupazione quindi nel settore edile ma anche quei ricavi di genere proprio economico che è il maggior giro d'affari che sta innescando quel provvedimento sta determinando. Quindi cerchiamo di guardare per questo il mio appello di guardare la transizione ecologica come un'opportunità e non come un rischio da giocare è un pericolo per cui bisogna sempre giocare in difesa cerchiamo di giocare in attacco e questo è il contributo che possiamo dare noi. Grazie. Grazie mille. Prego, sì sì esatto. Grazie per la presenza. Onorevole Fraccaro si può avvicinare così. Intanto facciamo vedere come anticipati i video messaggi di chi non è potuto venire nell'ordine Fabio Roggiolani cofondatore di Eco Futuro e Edoardo Zanchini vicepresidente di Lega Ambiente. Buonasera a tutti un pomeriggio di grandi idee speriamo che le nostre idee vadano avanti marcino grazie ovviamente alla grande collaborazione dei parlamentari che con il loro impegno ci aiutano da tanti anni grazie davvero. Innanzitutto voglio sostenere la partita della chiusura dei pozzi della CO2 mineraria è assurdo che ancora oggi proseguiamo ad estrarre CO2 vergine diciamo così dal sottosuolo quando invece possiamo ormai utilizzare quella tutta di recupero e ovviamente se non chiudiamo quella che estraiamo dal sottosuolo non creeremo l'economia circolare della CO2 recuperata la CO2 non solo va recuperata ma va anche stoccata ma va stoccata ovviamente in agricoltura nelle piante e in molte tecnologie che stanno crescendo tra cui ahimè non si annovera quella di stoccarla tutta in un punto negli ex pozzi minerari che nello stoccaggio sono più i pozzi che creano che i problemi che creano che non quelli che risolvono ovviamente la questione riguarda anche tutto quello ad esempio tutto il percorso dell'idrogeno che noi sosteniamo ma che dobbiamo produrre effettivamente da energie rinnovabili e in un equilibrio sapendo che oggi abbiamo in mano gli strumenti ad esempio come il biometano liquido che è anch'esso un'alternativa all'elettrico già pronto e che ci aiuta tra l'altro con il procedimento con cui è prodotto a stoccare enormi quantità di CO2 nel sottosuolo la partita ovviamente si vince stoccando la CO2 ma si vince essenzialmente sulla partita delle rinnovabili è inutile aver fatto grandi riforme se poi non ci consentite di farle queste rinnovabili l'appello che rivolgo al ministro Cingolani è di smetterla di creare problemi e paure sulla transizione ecologica come macelleria sociale noi non ne vogliamo creare di macelleria sociale saremo ragionevolmente pragmatici ma deve sbloccare tutti i permessi sulle rinnovabili che dice di fare ma che ancora i provvedimenti non ne vediamo la luce l'altra questione ovviamente non è possibile aver dato questo diritto di veto al ministero diretto da Franceschini non è pensabile perché è il diritto di veto sul nostro futuro le città hanno diritto ad avere i pannelli fotovoltaici così come ci sono le antenne così come ci sono altre cose sui tetti bisogna davvero creare una liberalizzazione che a parte ovviamente la cupola di San Pietro ma sotto la cupola c'è la sala nervi e ci sono 200 kilowatt di fotovoltaico quindi bisogna fare una liberalizzazione concreta concludo con la battaglia che ci ha spinto ad essere lì è quella della raccolta delle firme che nel complesso su change.org sono arrivati a 45 mila firme per impedire che avvengano alcune scemenze gravi sulla questione del super bonus che ha dato grandi risultati ringrazio Fraccaro e Girotto per le loro riforme del super bonus e delle comunità energetiche queste grandi riforme cioè è evidente che per le villette singole bisogna fare in modo che quando ci sono proprietari poveri si possa ancora andare avanti come per i condomini quindi spostateli sé a un livello di due stipendi operai o di due stipendi impiegatizi ma certamente non si possono escludere persone che sono oggettivamente di fascia bassa a livello di capacità economica ma l'altra questione è la gravissima iniziativa di escludere il fotovoltaico ora per tutti addirittura escludere il fotovoltaico mantenendo in essere invece le caldaie a condensazione sia chiaro se vogliamo decarbonizzare questo paese le caldaie a condensazione devono scomparire e deve essere il trionfo delle pompe di calore che invece ancora oggi sono sostanzialmente penalizzate da una serie di questioni che noi affrontiamo nei nostri documenti è una grande bella partita vinciamola insieme e complimenti per questa unità che ci auguriamo che poi si riverberi anche nel mondo politico per davvero avviare una transizione ecologica di lavoro e di prosperità buonasera abbiamo deciso di aderire come legambiente a questa iniziativa perché siamo convinti che ci sia oggi bisogno più che mai di una legge di bilancio di svolta sui temi della transizione ecologica nella lotta ai cambiamenti climatici in fondo è un anno che questi temi sono al centro di attenzione per quanto sono aumentati gli impatti dei fenomeni di meteorologia estremi in tutto il mondo è stato l'anno di Glasgow e delle promesse di tutti i paesi per un cambio delle politiche climatiche di accelerazione nella mitigazione e nell'adattamento siamo un paese che finalmente ha un ministro della transizione ecologica eppure questa legge di bilancio non è all'altezza di queste sfide noi come legambiente abbiamo presentato emendamenti puntuali per far capire che questa svolta invece è possibile si può fare se solo si decide appunto di prendere il toro per le corna cioè di affrontare le priorità che abbiamo di fronte la prima è quella di essere all'altezza anche delle promesse che abbiamo fatto a Glasgow di contribuire al fondo per i paesi più poveri per la transizione appunto climatica ai paesi più poveri con risorse all'altezza di quella sfida risorse pubbliche e il contributo di SACE e di Cdp della cooperazione internazionale abbiamo presentato emendamenti per rendere il fondo per la transizione delle imprese davvero accessibile a tutte le imprese che vogliono scegliere questa direzione e non a chi invece vuole rinviarla ancora investendo nella cattura e stoccaggio del carbonio come Eni abbiamo presentato proposte puntuali per accelerare lo sviluppo e la diffusione di comunità energetica attraverso in particolare un fondo di garanzia per le famiglie e le imprese che vogliono spingere in questa direzione perché oggi il problema è l'accesso al credito da parte delle banche mentre abbiamo enormi potenzialità abbiamo presentato proposte puntuali per continuare nella riqualificazione energetica e patrimonio edilizio dopo il super bonus le proposte del governo non sono all'altezza di una sfida che abbiamo di realizzare centinaia di migliaia di cantieri di retrofit energetico con obiettivi ambiziosi per far risparmiare le famiglie perché è da qui che viene la risposta all'aumento del prezzo dell'energia e abbiamo presentato coste puntuali per la mobilità in ambito urbano per fare in modo che ci siano più piste ciclabili e più treni e metro in circolazione ma che ci sia anche una tassazione giusta per lasciare i mobiliti che va incentivata ovunque ovviamente abbiamo sentato poste puntuali come facciamo sempre per cancellare finalmente i sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili che in questa legge e bilancia ancora una volta sono rinviate e non si sa il nostro paese quando deciderà finalmente di abolirla infine cito un ultimo tema tra i tanti che abbiamo proposto quello dei controlli ambientali nell'anno del PNRR nell'anno in cui partiranno tanti cantieri nei prossimi anni vedremo grandi infrastrutture aprirsi abbiamo bisogno di garantire i controlli ambientali fatti bene fatti in maniera indipendente con le risorse per realizzare questi controlli altrimenti rischiamo infiltrazione dell'ecomafia e progetti in all'altezza di queste sfide l'appello che facciamo al Parlamento e al Governo è di ascoltarle proposte che vengono dal mondo ambientalista di fare in modo che il nostro paese esca dalla crisi e che dia un grande contributo a quella transizione ecologica di cui abbiamo bisogno in Italia e nel mondo per ridare speranza dopo la pandemia per rilanciare l'economia e rendere il nostro paese meno ineguale più giusto e più sostenibile buona serata e buon lavoro benissimo un'altra delle realtà ambientaliste che volevamo che fosse qui oggi è quella dei Fridays for Future e chiamerei Martina Comparelli a fare poi anche da lì può intervenire no ma posso stare in piedi mi metto così mi sentite mi sentite ok allora sicuramente siamo tutti d'accordo che transizione ecologica non vuol dire solo scappare a gambe elevate da una catastrofe da una crisi che noi abbiamo creato ma vuol dire anche andare a star meglio economicamente a livello di salute creare un futuro migliore per i vostri i nostri figli e quindi sicuramente non c'è dubbio che conviene a livello scientifico economico sotto tutti i punti di vista farlo anche sotto il punto di vista lavorativo perché alla fine bisogna sempre ricordare che un investimento nelle rinnovabili crea tre volte i posti di lavoro con investimento nel fossile cioè andiamo proprio a star meglio l'unica cosa è che la parola d'ordine qua è velocità e la velocità non la si vede da nessuna parte perché è vero che è un'opportunità ma la crisi climatica è una bomba d'orologeria e noi dobbiamo disinnescarla subito invece siamo ancora qui con la filosofia dei piccoli passi nella giusta direzione questa legge di bilancio non ha neanche i piccoli passi per capirci stiamo andando dritti verso l'estinzione senza cavilli senza scuse non stiamo agendo e in questi giorni in particolare ieri ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione ieri come probabilmente avrete già detto come probabilmente avete già sentito è stato presentato qui a Roma con il benestare di Draghi e Cingolani il cosiddetto manifesto lavoro energia per una transizione sostenibile di Confindustria Energia organizzazione capitanata peraltro non dirigente ENI quindi sappiamo con chi abbiamo che fare ente nazionale idrocarburi il nome dice tutto un riassunto in poche parole di questo documento raccontano che l'idrogeno va prodotto a prescindere dal colore ricordiamo che l'unico idrogeno da fonti rinnovabili è quello verde quello grigio e quello blu sono da fonti fossili parlano di gas come energia verde come energia a transizione da inserire nella tassonomia europea ovvero nella lista delle energie che vengono considerate sostenibili verdi per la transizione dall'Unione Europea e ancora promuovono il centro di cattura e stoccaggio del carbonio ora andiamo un attimo con ordine un piano che parla di idrogeno di tutti i colori è una presa in giro nei confronti di tutti i cittadini che pagano tasse e che dovrebbero ricevere informazioni corrette sul loro futuro e su come arriva l'energia alle loro case ed è uno schiaffo alle nuove generazioni specialmente a noi attivisti che ci facciamo il mazzo ormai da tre anni e c'è chi ce lo fa da più tempo a studiare e ci siamo resi conto con paper scientifici che parlare di idrogeno di tutti i colori vuol dire mentire ad esempio parliamo di idrogeno blu partiamo direttamente dal gas l'idrogeno prodotto dal gas è dannoso sia economicamente perché costa di più ed è un investimento che non funziona e ambientalmente questo lo dice per esempio uno studio di Longden e altri pubblicato su un giornale scientifico chiamato Applied Energy Applied Energy è un giornale di ingegneria ed è peer reviewed questo vuol dire che diversi scienziati rivedono questi paper e c'è consenso su questi paper quindi questa è solo una delle fonti che ci dice che produrre idrogeno dal gas vuol dire continuare sulla strada del fossile rischiando perdite di metano direttamente e ripetiamolo ancora una volta perché non l'abbiamo detto abbastanza volte a quanto pare il metano è 80 volte più climalterante della CO2 nei primi 20 anni e nei prossimi 20 anni si gioca la vera partita quindi è decisamente grave una perdita di metano giustificarsi con il sistema carbon and capture storage che Eni vuole installare a Ravenna è la beffa che si aggiunge al danno in breve qua c'è da dire che gli impianti di cattura e stoccaggio sono dei sistemi che catturano le emissioni alla fonte quindi emettiamo però subito lo ricatturiamo e lo mettiamo sotto terra o sotto il mare costano fior fior di quattrini sono poco efficaci e sono la classica plateale mossa di greenwashing per continuare a fare emissioni e per continuare a spendere e a spandere in combustibili fossili tutto ciò infatti vuol dire rimanere legati al gas essere dipendenti economicamente dall'estero in questo caso da Russia e Algeria da cui compriamo il gas carissimo paghiamo questa fonte energetica che non è una fonte di transizione nel momento in cui siamo davvero con l'acqua alla gola e questo lo dicono gli scienziati del panel intergovernativo delle Nazioni Unite non lo diciamo noi attivisti insomma in poche parole io ho di nuovo ripetuto dei dati qua e siamo davvero stufi di dover ripetere gli stessi dati sul metano sul CCS sul fatto che il lavoro se la transizione viene fatta bene mettendo la società i cittadini al centro e non la gente che produce questi manifesti il lavoro non lo perderanno anche perché non c'è davvero nessuna scelta tra catastrofe sociale e catastrofe climatica non c'è nessuna scelta tra queste due catastrofi chiaramente non credo che nessuno degli ambientalisti o degli attivisti voglia perdere il lavoro credo che nessuno degli attivisti di Fridays for Future voglia che i loro genitori perdano il lavoro semplicemente bisogna riuscire a fare una transizione nel modo giusto mettendo al centro gli interessi dei cittadini la scelta qua è come al solito tra un'azione per il clima basata sulla giustizia climatica e sociale e sulla scienza oppure i collassi dei sistemi di supporto vitale andare a stare davvero peggio in tutti i sensi qui non si tratta neanche di bla 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 peraltro cioè qua stanno direttamente andando nella direzione opposta a quella della scienza secondo cui la scienza ci dice dovremmo proteggerci da questa catastrofe questi prendono tutti i paper dell'intera comunità scientifica sul clima li buttano nel fuoco e sanno benissimo che quelli a bruciarsi non saranno loro saranno i lavoratori che tanto dicono di voler difendere saranno i cittadini e le ceneri le dovremmo spazzare noi noi delle nuove generazioni che ci si ostinano ad ascoltare a dire che ci ascoltano usano spesso i nostri termini fingono che gli importa qualcosa e poi continuano a portare avanti interessi del genere noi abbiamo parlato sia con Draghi che con Cingolani Draghi ci ha detto in faccia qua ci sono testimoni Greta Tumbreghe Vanessa Nakate che bisogna puntare sulle rinnovabili gli ho chiesto del gas ha detto puntiamo sulle rinnovabili e adesso promuovono questo manifesto Cingolani ce ne dice una diversa ogni volta le azioni sono quelle che contano se quel manifesto arriva davvero alla ministeriale dell'energia come Cingolani ha detto di voler fare saremo i pagliacci di Europa se di nuovo portiamo questa faccetta del gas nella tassonomia europea siamo una vergogna a livello globale e se questa legge di bilancio avrà anche solo un euro in sussidi ambientalmente dannosi e combustibili fossili o quella quel centro di cattura e stoccaggio di Eni che è la cappella sistina del greenwashing davvero capiremo che la crisi climatica è al fondo della loro lista di priorità se c'è se c'è nella loro lista di priorità scusate se mi sono dilungata grazie Martina Fomparelli Fridays for Future e come diceva Mauro prima questa è una serata importante perché abbiamo riunito diverse realtà dell'ecologismo ma è una serata importante perché abbiamo anche degli esperti di imprenditoria e imprenditoria sostenibile intanto saluto il senatore Gianni Pietro Girotto che ci è arrivato e direi che posso dare la parola a Riccardo Banis presidente dell'associazione Arze associazione riscaldamento senza emissioni per un breve intervento grazie 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 per l'invito e ecco Futuro e Fabio Rogiolani per avermi coinvolto in questa iniziativa sottoscrivo quello che è stato detto da chi mi ha preceduto Arze è una associazione di piccole imprese riscaldamento senza emissioni che hanno fatto a mio avviso grandi passi grandi investimenti in evoluzione tecnologica e oggi esiste la possibilità concreta di sostituire caldaie riscaldandoci senza inquinare attraverso pompe di calore in particolare negli edifici esistenti che è il 90% del nostro patrimonio immobiliare ad alta temperatura e senza dover fare interventi invasivi all'interno delle unità abitative in particolare utilizzando la soluzione geotermica citava anche Fabio Rogiolani quindi possibilità di avviare una vera rivoluzione tecnologica e ambientale anche in questo settore come è avvenuto nel settore della produzione di energia elettrica e sta avvenendo nel settore della mobilità cosa chiediamo abbiamo parlato di capacity market prima noi abbiamo già fatto due aste e investito come paese come cittadini se non ero circa 9 miliardi di euro nel capacity market prevalentemente associato a combustibili fossili seppur diciamo cicli combinati bene io sfruttiamo questa occasione questo arco temporale in cui verranno riconosciuti questi incentivi o questi contributi per elettrificare il più possibile il nostro paese e uno dei settori oggi meno elettrificati è proprio il riscaldamento che è uno dei settori che ha il maggiore impatto ambientale in termini di inquiramento nelle aree urbane quindi sostituire caldae con pompe di calore significa rendere ambientalmente sostenibile le nostre città il super bonus è stata e ringrazio gli onorevoli Fraccaro e il senatore Girotto perché hanno dato ovvio veramente questo settore alla possibilità di dimostrare che questa tecnologia è concreta e porta risultati ambientali economici e anche sociali perché diciamo l'innalzamento dei prezzi non si combatte con diciamo sostegni finanziari si combatte abbassando i consumi perché queste emergenze vanno diciamo combattute guardando nel medio e lungo periodo ecco questo possiamo farlo dobbiamo rendere strutturale il super bonus purtroppo nonostante qualche timido segnale nella legge di bilancio di stabilità di sistema incentivante per il super bonus si parla fino al 2025 seppur graduale per l'eco bonus fino al 2024 peraltro una simmetria non comprensibile ecco penso che il super bonus per interventi di qualità e vuol dire portare in classe energetica elevata i nostri edifici e farlo con sistemi di riscaldamento emissioni zero è possibile e questi debbono continuare ad essere premiati almeno fino al 2030 data in cui noi siamo presi l'obiettivo di ridurre il 55% di emissioni in atmosfera rispetto al 1990 bisogna farlo su tutti gli edifici condomini e singole unità abitative è un tema di equità sociale non possiamo pensare che chi ha un'abitazione singola non può beneficiare del super bonus perché anche quelli soffrono l'aumento dei prezzi di energia è un tema ambientale perché anche quelli inquinano peraltro i risultati dimostrati ad oggi dell'Enea se non erro degli 11-12 miliardi di lavori 3 miliardi e mezzo sono delle abitazioni 6 miliardi sono per i condomini quindi non c'è neppure un tema diciamo di assorbimento di particolari elevate risorse finanziarie e se ci fosse interveliamo togliendo magari qualcosa alle caldaie a condensazione a sistemi inquinanti perché ogni intervento di super bonus fatto con una nuova caldaia continuerà ad inquinare per i prossimi 15-20 anni e quindi stiamo finanziando e continuando a generare danni ambientali quindi sia le unità abitative sia una stabilità del super bonus per interventi di qualità e direi che questo è tutto quello che penso possa essere utile per poter portare avanti questa transizione ecologica chiedo l'ultimo intervento con un po' di pazienza all'onorevole Renardi e di Averaldo Farri un altro imprenditore di Zucchetti Centro Sistemi uno dei leader del fotovoltaico del settore fotovoltaico e degli inverter fotovoltaici l'ultimo intervento e poi commentiamo do a lei la parola per commentare le proposte grazie grazie a tutti buonasera grazie dell'invito e io sarò molto breve perché gli interventi che mi hanno preceduto hanno detto già molto di quello che c'era da dire da tutti i punti di vista dal punto di vista più strettamente politico come la rappresentante di Fridays for Future dal punto di vista industriale il dottor Bani dal punto di vista del mondo ambientalista come Mauro quindi io diciamo vorrei richiamare l'attenzione su un punto solo e cioè il super bonus così come è stato concepito io trovo che sia la prima legge fatta in Italia di politica industriale vera da almeno 30 anni io non ricordo una legge così intelligente fatta negli ultimi 30 anni che è da quando ho cominciato ad avere posizioni diciamo di responsabilità in aziende multinazionali e poi adesso in un'azienda italiana quindi quella legge mette insieme filiere estremamente importanti per il settore per il paese Italia mette insieme l'edilizia mette insieme creazione di energia rinnovabile mette insieme una varietà di industrie che fanno strutture che fanno sostegni che fanno mette insieme i falegnami e i muratori quindi è una legge che io inviterei ora forse qui sto parlando insomma in casa però ecco inviterei veramente il governo a valutare estremamente bene qualsiasi tipo di modifica che la possa impattare in maniera negativa perché come abbiamo rilevato allora parlo dal punto di vista del fotovoltaico è vero il fotovoltaico ha un costo il 110% sul fotovoltaico diffuso come l'abbiamo avuto finora e l'avremo fino a giugno costa non ci dimentichiamo però che ogni goccia di petrolio che noi compriamo ogni stilla di gas che noi acquistiamo comunque ci costa allora l'investimento in produzione energetica specialmente con quella formula per cui tutto quello che non è autoconsumato finisce in rete va al GSE quindi è una formula che se messa a punto e con decreti attuativi che mi sembra in questo momento ancora manchino per cui il GSE possa effettivamente gestire a zero costo l'energia che viene immessa in rete e riusarla per il proprio utilizzo è una legge che se fate bene i conti porta solo dei grandi vantaggi al sistema paese quindi l'invito io ho visto il fotovoltaico viene praticamente escluso dal super bonus a partire da giugno ed è un errore ma non è un errore perché noi lavoriamo nel settore è un errore perché ancora una volta purtroppo dopo un anno di applicazione di una legge intelligente e di una legge di politica industriale che metteva insieme delle filiere diverse ma allo stesso tempo sinergiche siamo qui che chiediamo di cambiarlo e non sappiamo bene neanche il perché perché poi appunto vediamo quali sono i costi ma i conti mi sembra siano stati fatti con un occhio influenzato da altre lobby e soprattutto da situazioni contingenti che non guardano al bene del paese noi siamo abituati a dare uno stipendio tutti i mesi a delle persone che lavorano per noi per darglielo c'è bisogno di scelte c'è bisogno che chi ha in mano il governo del paese guardi al bene del paese non al bene di alcune industrie non al bene di alcune lobby non al bene di alcune filiere al bene del paese e se toccassero la legge sul super bonus nella maniera in cui l'abbiamo vista noi sarebbe un'ulteriore ferita che viene data a questo paese a chi produce e a chi cerca di creare ricchezza tutti i giorni quando la mattina va a lavorare grazie a tutti grazie mille per la doffarri lascerei la parola all'onorevole Nardi grazie colgo l'occasione anche di dire sia Riccardo Fraccaro io lascio lo spazio Riccardo Fraccaro e al presidente Gerotto anche magari di venire in modo tale da concludere diciamo questa bella giornata questo bel no figura questa questa grande questo grande appuntamento perché comunque ha detto bene Mauro all'inizio insomma il mondo ecologista comunque operatore nel settore ha trovato il modo di unirsi intorno a determinate bandiere che qui voi avete espresso con molta chiarezza noi stiamo conducendo ognuno come può e dove è a seconda del proprio luogo diciamo una proposta una battaglia per diciamo continuare il super bonus e aver ospitato una conferenza stampa quest'oggi che diciamo così consegna 45.000 firme accolte in maniera spontanea come lo strumento che avete utilizzato quindi uno strumento internet uno strumento diciamo orizzontale è un segnale rilevante importante che dà forza a tutti coloro alle forze politiche che in queste settimane in questi giorni insomma si stanno impegnando fortemente con la presentazione di emendamenti al senato al fine di arrivare a definire di più e meglio la diciamo questione super bonus avete detto voi che ci sono tante criticità queste criticità le credo io le sottoscrivo non penso anche che i miei colleghi lo facciano altrettanto e su questo appunto sin da da subito siamo impegnati invece a cambiare a far cambiare idea al governo siamo anche diciamo spericolati perché pensiamo anche che alla fine ce la faremo e quindi questo diciamo ci dà una mano in più in termini perlomeno di morale e sappiamo di non essere soli ma anzi di essere accompagnati da pezzi veri della società voi siete uno di questi non solo voi perché poi ci sono tanti altri tasselli io credo che il mondo dell'impresa il mondo ecologista il mondo delle imprese collegate anche alle filiere che quindi non riguardano solo e esclusivamente la parte green ma che riguardano poi tutta diciamo le filiere delle costruzioni in questi giorni debbano far sentire la loro voce e noi dobbiamo se possiamo ospitarli così come abbiamo fatto quest'oggi al fine di far crescere nel paese la consapevolezza che invece il super bonus deve essere mantenuto deve essere mantenuto e deve essere costruita una politica industriale sul settore non solo delle costruzioni ma sul settore green quindi noi abbiamo bisogno di avere pillole di futuro e per poterlo diciamo così portare a sistema c'è bisogno che le cose non si interrompano ma anzi abbiano una strada diciamo che sia evidente che sia costruita che sia appunto rivolta alla prospettiva quindi dal mio punto di vista diciamo io vi ringrazio ringrazio io voi non è il contrario perché insomma ci date una mano a far sentire fuori e dentro quindi dentro le aule parlamentari ma anche e soprattutto fuori da qua una voce importante che è quella del mondo ecologista e vi ringrazio anche perché spesso nelle organizzazioni è difficile trovare l'unità di intenti quando ci si riesce è un grande successo e va portato a sistema quindi la notizia oggi è questa il mondo ecologista sostiene a gran voce il super bonus lo sostiene attraverso una petizione popolare che ancora credo immagino ancora firmabile sostenibile e così date una mano a chi come noi sta tentando in queste ore di far cambiare idea al governo grazie davvero buonasera a tutti veramente grazie per queste graditissime 45.000 firme raccolte in brevissimo tempo e grazie come diceva la Presidente Nardi della coesione che avete dimostrato perché è vero l'Unione fa la forza e vedere tutte le associazioni ambientaliste coese in un unico progetto in un'unica richiesta rivolta al governo e al Parlamento è estremamente positivo la transizione tra l'altro non si fa se non se non c'è una trasversalità perché se ognuno cura il suo giardino il suo orto non si arriva da nessuna parte richiede di fare cooperazione la transizione gli interventi sono stati da me molto apprezzati molto interessanti devo dire che anche quelli più critici colgono un punto che condivido che non siamo ancora non abbiamo ancora la mentalità giusta con cui stiamo affrontando il futuro ed è innegabile io lo percepisco chiaramente proprio guardando la pandemia perché nel periodo covid dove abbiamo assistito a una delle più grandi crisi economiche pandemiche tutto quello che volete e che ancora rispetto alle quali non siamo usciti ancora e stiamo ancora affrontando l'abbiamo vissuta veramente con tutti gli strumenti che avevamo a disposizione perché a livello europeo mondiale nazionale di governo di parlamento ci siamo resi conti della gravità tanto da derogare a qualsiasi cosa conosciuta prima abbiamo derogato a tutte le regole sul bilancio sugli aiuti di stato sulle libertà individuali abbiamo derogato qualsiasi cosa perché perché stavamo affrontando una crisi senza precedenti ora qual è la mentalità sbagliata che vedo che percepisco e che voglio condividere con voi che non abbiamo capito che questa rispetto alla crisi climatica è poca cosa perché è vero quello che ha detto l'esponente di Friday for Future e noi qui stiamo giocando stiamo lottando contro una pandemia vabbè però la pandemia sappiamo super l'abbiamo già vista non abbiamo mai visto un cambiamento climatico di questo tipo non abbiamo mai affrontato il rischio di estinzione della specie umana e il rischio di estinzione della specie umana ce lo dicono il 99% virgola 9% della comunità scientifica ci dice questo che entro fine secolo è a rischio della nostra stessa sopravvivenza perché sta aumentando la temperatura in maniera insostenibile ragazzi questa cosa qui rende banale qualsiasi altro dibattito politico su qualsiasi altro tema anche la pandemia viene rimensionata se noi veramente parliamo di questo quando sento le cifre fra 50 anni Roma avrà la temperatura di Tunisi del Sud Italia del Sud Sahel ci rendiamo conto di cosa stiamo per affrontare rispetto a questo la pandemia è poca cosa e non stiamo però utilizzando gli stessi strumenti che abbiamo messo in campo per la pandemia anche per la transizione ecologica e il superbonus è esattamente questo esempio è l'esempio di questa mentalità sbagliata perché? perché il governo sta ridimensionando il superbonus? perché stiamo uscendo dalla pandemia il superbonus è stato fatto per la pandemia secondo il governo secondo la maggior parte dell'opinione pubblica non è stato fatto per la transizione ma noi l'abbiamo fatto per la transizione abbiamo superato il problema del rischio di cambiamento climatico? no e perché mi togli il superbonus? a meno che mi trovi mi devi dare un altro strumento per fare esattamente questo livello di efficientamento energetico degli edifici con la stessa rapidità anzi vi dirò di più dal mio punto di vista il superbonus non è adeguato alle sfide che abbiamo di fronte perché se io penso che nel 2050 voglio trasformare l'intera società italiana una società ad impatto zero dal punto di vista delle emissioni inquinanti non mi basta il superbonus il superbonus dovrebbe essere migliorato aumentando la qualità degli interventi perché anche oggi il superbonus diciamo lo dico io che ho scritto quella norma che poi è stata modificata migliorata grazie anche al lavoro del Parlamento devo dire che il Parlamento il Senato il Presidente Girotto lo sa bene il Presidente Nardi hanno lavorato in una sinergia fantastica col governo a cui avevo presentato quella norma e che l'ha approvata perché aveva come tutte le norme possibilità di essere migliorata ma adesso dovremmo discutere di come migliorarla non limitarla ma alzare l'asticella qua ci sono degli imprenditori sono d'accordo per me pensare di fare una riqualificazione energetica senza farla obbligatoriamente antisismica prima nel caso in cui ci siano problemi antisismici è follia o addirittura un imprenditore che affronta una riqualificazione pagata dallo Stato senza portarla alla massima classe tecnologica possibile ma fermarsi prima perché ha bisogno di velocità è una follia però oggi è possibile perché durava un anno adesso dovremmo ragionare su questo ma ovviamente per ragionare su questo abbiamo bisogno di avere una prospettiva temporale di lungo termine come la transizione stessa prevede richiede e non avendola oggi siamo in una fase di difesa della misura voglio dire tra le vostre proposte faccio un esempio c'è quella del favorire gli isolamenti naturali anziché utilizzare invece isolamenti di tipo polistirolo o comunque prodotti da fonti fossi e utilizzerò questo per usare un altro concetto poi non voglio dilungarmi tantissimo eh ma per fare questo io oggi devo sapere io vorrei poter dire ve lo dico chiaramente usate solo prodotti naturali ma se io dico questo devo dare il tempo alla filiera industriale di trasformarsi favorire con l'incentivo i prodotti naturali i prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale perché noi non dobbiamo solamente rendere efficienti le nostre abitazioni ma renderli efficienti con prodotti il più possibile non inquinanti se no è un loop ma devo trasformare quindi il super bonus dovrebbe favorire una ricchezza industriale che permetta all'industria di trasformarsi e diventare sostenibile ma allora gli devo dare almeno 3-4 anni 5 forse 10 in alcuni casi per farlo e chiedere agli imprenditori di investire la ricchezza accumulata nella riqualificazione della propria filiera industriale per produrre e utilizzare in maniera massiccia quel prodotto che è sostenibile anziché di quello insostenibile e qui arriva il bello che è quello che ho sentito come primo intervento dal presidente di Chiotoclep da Ferrante e poi da altri interventi questa è esattamente la dimostrazione plastica che a differenza di quello che si dice solo il lato positivo il lato negativo della medaglia che rischiamo l'estinzione che è abbastanza negativo il lato positivo per eserlo il lato positivo è che se io la combatto in maniera adeguata faccio anche la sostenibilità economica e sociale che non riesco a fare da 30 anni perché se non faccio la cosa giusta se faccio la cosa giusta come effetto miglioro tutto il resto e tutto il resto oggi è la sostenibilità sociale ed economica guardate molti ambientalisti che d'altro stimo dicono che la transizione è incompatibile con il PIL io non condivido per niente questa affermazione perché il PIL è negativo perché il PIL cresce anche se tu distruggi il pianeta però se tu fai la transizione seriamente cresce il PIL sono sicuro al 100% cresce il PIL quello buono che non distrugge il pianeta potrei farlo crescere distruggendolo ma se faccio la transizione sicuramente cresce in maniera diffusa equilibrata sostenibile ma cresce e oggi guardate probabilmente è l'unico modo di farlo crescere perché noi da 30 anni che non riusciamo a crescere da 20 anni non riusciamo a crescere fai il superbonus che siamo più degli altri paesi europei io ne ho viste tante manovre economiche di misure inquinanti non hanno fatto crescere il nostro paese dal punto di vista del PIL cos'è che manca anche per poter fare una transizione seria un piano industriale ora tutte le proposte che sono arrivate da che ho letto ovviamente dalle varie associazioni ambientali che sono che hanno portato oggi i loro elaborati non richiedono solo un emendamento voi ovviamente le avete trasformate in proposte emendative alla legge di bilancio però non basta non basta nel senso che l'emendamento di solito questo almeno dall'esperienza di governo è il punto finale di un'idea di un percorso non può essere il punto di inizio difficilmente lo è per fare la transizione serve una politica industriale voi chiedete non so parliamo di un tema a me caro one million tree che ho trovato mille miliardi di alberi è l'approccio giusto mille miliardi di alberi perché perché noi abbiamo discusso fino adesso di come ridurre le emissioni di CO2 e non stiamo quando Greta dice bla 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 ha ragione è da vent'anni che la concentrazione di CO2 aumenta ogni anno e cosa ti deve dire un giovane di quest'era se non bla 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 io a quell'età sarei stato molto più cattivo bla 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 io lo prendo come non so una carezza ancora perché bisognerebbe a quell'età lì a quell'età lì un giovane dovrebbe dirci parole diverse probabilmente molto più crude quindi io penso che sia stato anche corretto perché da dieci anni probabilmente stiamo dicendo a quella generazione quindici stiamo facendo qualcosa e ogni anno la concentrazione non è che non è diminuita è aumentata quindi cosa si aspettano questa generazione cosa non dobbiamo a quella generazione proprio non dobbiamo più dire neanche più rispondere se non dire guardate dovete dobbiamo dare risultati concreti non sta diminuendo la concentrazione di CO2 nessun anno è diminuita negli ultimi 30 anni mai e stiamo provando a ridurre il rubinetto delle emissioni inquinanti che stiamo producendo che stiamo immettendo nell'ambiente e non ci riusciamo a livello globale la guardiamo solo dal punto però delle emissioni è sbagliato c'è anche il punto dell'assorbimento che non guardiamo perché dall'inizio della rivoluzione industriale ad oggi non è che abbiamo aumentato solamente le emissioni in atmosfera del CO2 abbiamo anche ridotto drasticamente il numero di piante sulla terra in grado di assorbire la CO2 abbiamo tagliato 2000 miliardi di alberi dalla rivoluzione industriale ad oggi quindi oggi secondo me quello è proprio il punto da aggredire perché è più facile costringere tutti gli stati a piantare alberi piuttosto che a ridurre pensiamo alla Cina pensiamo all'India sono più disponibili a piantare alberi piuttosto che a ridurre l'emissione oggi lì si possono impegnare subito almeno facciamo quello per piantare tutti questi alberi che in Italia tipo vuol dire due miliardi di alberi che sembra una cosa impossibile invece è possibile ma dal punto di vista della filiera industriale che cosa vuol dire? vuol dire che noi dobbiamo assumere una quantità enorme di persone che devono fare il lavoro non solo di piantumazione ma di manutenzione vuol dire che poi quel legno lo dobbiamo trasformare perché se il legno rimane lì e poi marcisce ritorna dal CO2 quindi dobbiamo trasformare in tavolini in piatti e dobbiamo iniziare a dire per esempio all'opinione pubblica tutto deve essere in legno piatti in legno bicchieri in legno tavoli in legno perché il legno stocca la CO2 e il resto no ma capito che questo vuol dire avere una visione industriale a 10 anni 15 anni del paese quindi non è solamente una questione normativa è una questione di visione industriale noi non l'abbiamo diciamo che come paese abbiamo un paese anti-impresa che dove fare impresa è difficilissimo e l'abbiamo visto anche col decreto anti-truffe che secondo me è emblematico di come noi come noi come forza come struttura istituzionale non abbiamo una cultura pro-impresa e non abbiamo da troppi anni una visione industriale del paese è il momento di costruirla perché se non la costruiamo a visione industriale non riusciremo a fare la transizione e chiudo scusate perché il decreto truffe è anti-impresa perché tu non puoi dire ho scoperto una truffa blocco tutto perché vuol dire che ci sono imprenditori che non dormono la notte famiglie che non sanno se vengono pagate drammi diffusi nel paese non te ne puoi fregare in questo modo è quello che abbiamo non è che vogliamo evitare di combattere le truffe perché il massaggio è passato questo e abbiamo chiesto tutti questo trasversalmente vogliamo evitare le truffe ma non è che per combattere un truffaldino mi fai vivere male tutti gli onesti che c'erano che stanno lavorando io mi taccio dicendo grazie per le 45.000 firme ci danno ancora più forze per fare la battaglia al Senato probabilmente l'unica opportunità sarà il Senato perché credo che la legge bilancio non potrà essere modificata alla Camera per questione di tempo ce la metteremo tutta con questo ci date ancora più coraggio grazie Allora aggiungo solo qualche riflessione ringrazio dell'ospitalità ringrazio chi ha organizzato l'evento ringrazio anche io delle firme rinnovabili decentramento efficienza rinnovabili decentramento efficienza questa è la strada ora sull'efficienza c'erano già delle misure in atto conto termico certificati bianchi sui quali comunque bisognerà continuare a lavorare perché anche c'è tutta la parte industriale non c'è solo la parte diciamo termica dell'iscaldamento domestico ma c'è anche la parte industriale che è bella massiccia e quindi continuare a lavorare anche su quello sul super bonus Riccardo ha già detto tutto quindi continuare sì scusaci tu Martina e grazie dell'ospitalità mi abbandonano tutto alle spalle larghe grazie grazie a te Riccardo dicevo confermare la bontà di uno strumento che abbiamo voluto dal 2013 appena entrati in Parlamento sul quale presentiamo una mozione nel 2015 che poi fu approvata nel 2016 che chiedeva la stabilizzazione e poi una risoluzione anche se approvata l'unanimità nel 2019 direi che appunto eravamo in presenza del Ministro che l'ha scritta e dei parlamentari che hanno fatto tutto il lavoro pre-eliminare a livello di indirizzo politico quindi sul super bonus abbiamo già detto di tutto e di più due parole sulle comunità energetiche rinnovabili semplicemente perché sono pochissimo conosciute io invito anche i ragazzi di Fridays for Futures a organizzare un evento o qualsiasi diciamo così occasione di divulgazione semplicemente perché il 95% delle persone non lo conosce non ha capito che cos'è lo confonde col super bonus lo confonde magari anche l'atto industriale lo confondono con i certificati bianchi gli enti pubblici non la conoscono io ho già provato a sensibilizzarvi perlomeno i ragazzi qui di Roma li sto un po' pressando perché cercando di mettere un po' nei vostri panni sono stato giovane anch'io siamo stati giovani tutti passare dalla protesta poi all'azione è il passaggio che bisognerebbe compiere ora già è solo il fatto di divulgare una soluzione che è lì è pronta esattamente come il super bonus è lì è pronta non è che aspettiamo un qualche decreto attuativo o una circolare interpretativa sapendo che la stragrande maggioranza della gente non la conosce e potrebbe partire domani potrebbe partire domani chi ha voluto fare le comunità energetiche le ha realizzate in pochissimi mesi ma proprio pochissimi mesi due tre mesi quindi la procedura è anche molto semplice ecco questo già capovolgerebbe la piramide energetica con una ridistribuzione del reddito che è enorme con un vantaggio per i cittadini e per tutti gli italiani enormi perché pensiamo solo al fatto che nei condomini proprio non ci pensano minimamente perché sono stati abituati per decenni che era vietato prima della norma sulle comunità energetiche era vietato fare l'impianto sul tetto distribuendo poi la corrente ai vari appartamenti si poteva dare solo all'ascensore e alle luci scale cosa che rendeva l'investimento assolutamente irrazionale e quindi chiaramente non lo faceva nessuno adesso non si può fare ma la gente proprio non è abituata a pensarci chi vive su case singole sì e infatti ci sono mezzo milione di impianti sulle case singole sui condomini no e i condomini sono 1 milione 200 mila ci vivono 20 milioni di italiani quindi benissimo fare il super bonus assolutamente sappiate che c'è anche questo diffuso poi su tutte le altre soluzioni la settimana scorsa è nata la prima comunità energetica in cui i soci sono 4 aziende i soci sono 4 imprese manifatturiere quindi chi ha dei consumi anche direi differenti rispetto all'ambito residenziale dopodiché diciamocela chiaro e tondo questa è una guerra questa è una guerra tra chi detiene il potere economico finanziario e lo status quo attuale guadagna dallo status quo attuale e naturalmente non vuole cambiarlo naturalmente non vuole cambiarlo cioè inutile che ce la raccontiamo tanto tanto diversamente chiaramente da sempre c'è questa guerra tra chi detiene i poteri attuali e vede nei cambiamenti qualche cosa che gli erode la sua quota di guadagno peccato doppio peccato perché non hanno capito che se invece scavalcano l'onda anziché contrastarla paradossalmente potrebbero guadagnare forse ancora di più perché servizi è fatturato un po' come il discorso del super bonus super bonus è vero che ha un costo ed è vero che diminuisce il fabbisogno di energia però tutto quello che viene messo in moto per arrivare a installare a fare tutti gli interventi poi alla fine è business è business sul quale è anche sacrosanto che qualcuno ci faccia il guadagno però andiamo a una ridistribuzione del reddito e la ridistribuzione del reddito evidentemente è una cosa che non piace a tutti quindi il messaggio è sempre lo stesso come forza politica noi queste cose le abbiamo scritte le abbiamo scritte perché anche le comunità energetiche e c'è il nome e cognome di Dario Tamburrano sugli emendamenti sulla redd2 e il mio sull'emendamento del 42 bis del 1000 proroghe quindi più che esserci nero su bianco mi pare evidente che sono cose che le abbiamo fatte noi quindi vogliamo che lavorino al massimo livello dopodiché ci vuole la divulgazione qui entra in gioco di nuovo il mainstream e le attività di ciascuno di noi perché ciascuno di noi comunque può fare l'effetto valanga perché scusatemi una notizia di gossip in due giorni la sanno tutti se domani un noto personaggio della cultura dello spettacolo fa una determinata cosa in due giorni lo sanno tutti ma è possibile che le comunità energetiche che hanno un anno e mezzo di vita non le conosce quasi nessuno però siamo in diretta Facebook nel canale di Eco Futuro in questo momento quindi qualcosa stiamo facendo no no ma infatti infatti vi ho ringraziato subito per l'opportunità di divulgare questa realtà ed è quello che bisogna continuare a fare naturalmente cercando di renderla il più mainstream possibile noi come lato Parlamento non possiamo che ribadire per la milionesima volta che continueremo a portare avanti quello che abbiamo già realizzato e continuando anche ad implementarlo sulle comunità energetiche abbiamo fatto la conferenza stampa martedì scorso avete visto c'era anche Cingolani e oltre che il Presidente Conte e il Ministro Pattuanelli è proprio per dare notizia di quello che sarà un ulteriore incremento della potenza dell'ambito geografico delle comunità energetiche che quindi veramente potranno contribuire anche alle realtà industriali perché in questa prima fase dobbiamo dirlo chiaro e tondo l'applicazione era soprattutto civile quindi le potenze in gioco sono piuttosto ridotte quindi diciamo soprattutto l'ambito civile adesso ci sarà lo scatto a potenze decisamente più elevate quindi anche in ambito industriale le industrie potranno realizzare cospicui risparmi perché alla fine il discorso è quello si va a risparmiare ribadisco quanto ha già detto il collega Fraccaro la transizione ecologica ha un saldo positivo netto sotto tutti i punti di vista e non lo diciamo noi 5 stelle lo dicono decine decine di studi sia il saldo in termini tra posti di lavoro persi e posti di lavoro creati è positivo quindi più posti di lavoro vengono creati sia il saldo economico finanziario cioè i risparmi che si ottengono dalle nuove tecnologie sono decisamente superiori ai costi di dispiegamento iniziale fatto salvo che c'è un periodo di ammortamento come in tutti i progetti di upgrade e di efficientamento grazie 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 senatore grazie mille a tutti quelli che hanno potuto partecipare in presenza vorrei ringraziare anche però quelli che non sono potuti partecipare ci hanno mandato un video che purtroppo per ragioni di tempo strettissime non possiamo mandare in onda ma che lasceremo in onda nelle prossime giornate già da domani sul canale facebook di Jacofuturo in questo momento la diretta sta andando in onda sia sulla web tv della camera che sul canale facebook di Jacofuturo vorrei ringraziare nell'ordine Lorenzo Fioramonti l'onorevole che ci ha mandato un video messaggio che non abbiamo potuto far vedere l'aeroparlamentare Eleonora Evi che ci ha mandato un video messaggio e non abbiamo potuto fare vedere e anche Maria Grazia Midulla del WWF e anche un altro imprenditore di Tecnocanapa Paolo Ronchetti di cui parlava prima appunto Riccardo Fraccaro sulla realizzazione di mattoni in calce canapa per i cappotti per il super bonus ci sono tantissime altre persone che dovremmo ringraziare passo la parola brevemente a Mauro per una facciamo vedere fin da domani questi video anche sul canale di Ecolobby che è più piccolina però guardate anche quello grazie davvero a tutti è stata una bella giornata siamo emozionati siamo contenti speriamo che sia l'inizio buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.